Il nostro Imaginary Pack è un abbonamento che mi permette quindi di stabilire il monte crediti che voglio investire per l'acquisizione di immagini e mi permette di personalizzare completamente l'utilizzo e la fruizione di queste immagini in base alle mie necessità. Un po' come una scheda prepagata o l'abbonamento in giga del mio telefono cellulare attraverso il quale poi posso scegliere di spendere i giga nella visualizzazione di video su YouTube o nella comunicazione dati o per giochi online. Non so se trovi azzeccata questa similitudine.